Ed eccoci con le novità di modernariato per questa settimana e bonus finale. Al terzo posto abbiamo questa particolare lampada con basamento in marmo, strutture in metallo cromato, con braccia ad arco movibili, come del resto anche le bocce. Al secondo posto questa particolare console con strutture in faggio, un'elegante impiallacciatura in frassino, ma la parte più curiosa è questo Sky originale stampato con motivi paesaggistici. E al primo posto questa fantastica coppia di poltrone argentine con Sky originale bicromatico e particolare queste borchie che richiamano il colore predominante di queste poltrone. E come promesso il bonus, questa bellissima coppia di poltrone anni 70 con la struttura in legno laccato bianco e schienale e seduta rifoderati da noi in questo tessuto bellissimo a coste color lilla tipico di quell'epoca.